Felice inizio di settimana a tutti da Marcus, allora il 17 non è ancora arrivato su Venezia e nemmeno a Bari però quella era la ruota più indicata abbiamo detto che è Venezia, però che si può ripetere anche a Bari l'abbiamo ripetuto un sacco di volte nel mio canale, il 17 ancora, martedì prossimo siamo a 10 colpi di gioco attenzione, io da giovedì poi formulerò una nuova previsione in pubblico qua su YouTube mentre invece quella di Firenze-Roma con il 90 la ritengo farla in privato, quindi gli abbinamenti dati per il 90 su Firenze-Roma solo su Telegram mentre invece quella di martedì allora ancora il 17 su Venezia, poi la lunghezza su Bari e poi anche il Lambo 17-90 su Venezia perché anche il 90 è atteso su Venezia, avete visto che si è ripetuto di nuovo un'altra volta il 90 su Napoli perché c'era la condizione doppia appunto di Roma e Torino che andavano a finire tutte e due questi 90 su Milano e Napoli allora quello che ci interessa a noi adesso è il 17 allora vediamo un attimino, questa è ancora una condizione che si deve adempiere questa anche, è uscito il 71 su entrambe le ruote e poi ancora questa, ecco vedete, e poi quella della figura 9 quindi sono ancora due, sono ancora quattro occasioni di quattro previsioni diverse con il 17 su Venezia per cui Venezia e poi Bari quindi tenteremo ancora martedì, ok? allora per quanto riguarda invece il 90 andiamo a rivedere i nuovi schemi allora riguardiamo un attimino il 90 il percorso, come vi dicevo Roma e Torino avevano dato il 92 volte su Milano e Napoli ecco che allora dopo praticamente 6-7 colpi, vedete 6-7 colpi si può ripetere tranquillamente il doppio 90 su Napoli perché riceve, vi ripeto, doppio contributo quando arriva più occasioni per il 90 su due ruote gemelle in automatico avete visto che lo può dare addirittura due volte di seguito adesso la condizione che abbiamo visto poi su Bari che va a finire a Napoli poi questa, scusate, che va a finire a Roma e questa che va a finire a Firenze attenzione perché adesso abbiamo una potenzialità di uscita su Firenze e Roma come vi dicevo prima, gli abbinamenti lo date sul gruppo Telegram ok? quindi, poche parole ancora da dire il 17 è ancora martedì, poi ne formuleremo un'altra per giovedì con un altro sistema adatto al pubblico ma quel 90 su Firenze e Roma ho preferito dare gli abbinamenti solo sul gruppo Telegram ok? non perché quella sia una previsione diversa dalle altre che sto dando però ritengo che è meglio giocarla in un gruppo ristretto di persone ok? nient'altro gli schemi vi li faccio vedere di nuovo del 90 eccoli qua, quello di Bari che va a finire su Roma queste le posizioni in giallo che sono del programma Lotto++ Gold e poi quello in nero sempre mi dà un bata contata poi di nuovo questo qui di Napoli che va a finire a Firenze e va a finire quindi di rimbalzo a Roma possono uscire in contemporanea possono uscire magari una volta dietro l'altra come avete visto su Milano-Napoli perché come vi ripeto quando ci sono due occasioni vedete quando ci sono due contributi quindi due occasioni pari che vanno su Milano-Napoli e in questo caso ce ne sono una e due che vanno a ripetersi sulle ruote gemelle in contemporanea o addirittura uno dopo l'altro può uscire tranquillamente più di un 90 su queste ruote allora il 90 atteso Firenze-Roma il 17 ancora martedì giovedì le nuove previsioni in pubblico speriamo il 17 dai proviamo ancora questo 17 martedì e poi cambieremo e vi ripeto non andate oltre quei colpi di gioco 11, 13, 15 poi fermatevi perché è inutile se non esce è inutile continuare poi abbiamo detto del 90 queste sono le due situazioni della prossima settimana quindi da domani ok e speriamo bene cosa vi devo dire avete visto che ancora sto 17 non è uscito speriamo questa settimana ma speriamo almeno il 90 che faccia il botto come gli altri due 90 che sono andati a finire in posizione almeno lambata semplice o lambata in posizione comunque mi avete fatto vedere altri cedolini che li abbinate con altri numeri e va benissimo così l'importante è venirvi incontro io non le ambate poi se avete degli altri numeri vostri personali vi ripeto non c'è nulla di male non c'è niente di male anzi benvenga così almeno quello che si deve vincere e si può fare benvenga allora ancora un abbraccio a tutti noi ci risentiamo poi alle prossime news vi abbraccio sempre dal vostro amico Marcus ciao